Anch'io sono un uomo mortale, uguale a tutti, discendente del primo uomo plasmato con la terra. La mia carne fu modellata nel grembo di mia madre. Nello spazio di dieci mesi ho preso consistenza nel sangue, dal seme d'un uomo e dal piacere compagno del sonno. Anch'io, alla nascita, ho respirato l'aria comune e sono caduto sulla terra dove tutti soffrono allo stesso modo. Come per tutti, il pianto fu la mia prima voce. Fui allevato in fasce e circondato di cure. Nessun re ebbe un inizio di vita diverso. Una sola è l'entrata di tutti nella vita e uguale ne è l'uscita. Per questo pregai e mi fu allargita la prudenza, implorai e venne in me lo spirito di sapienza. La preferii a scettri e a troni. Stimai un nulla la ricchezza al suo confronto. Non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è come un po' di sabbia e come fango sarà valutato di fronte a lei l'argento. L'ho amata più della salute e della bellezza. Ho preferito avere lei piuttosto che la luce, perché lo splendore che viene da lei non tramonta. Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni. Nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. Ho gioito di tutto ciò perché lo reca la sapienza. Ma ignoravo che ella è madre di tutto questo. Ciò che senza astuzia ho imparato, senza invidia lo comunico. Non nascondo le sue ricchezze. Ella ha infatti un tesoro inesauribile per gli uomini. Chi la possiede ottiene l'amicizia con Dio e a lui raccomandato dai frutti della sua educazione. Mi conceda a Dio di parlare con intelligenza e di riflettere in modo degno dei doni ricevuti, perché egli stesso è la guida della sapienza e dirige i sapienti. Nelle sue mani siamo noi e le nostre parole, ogni sorta di conoscenza e ogni capacità operativa. Egli stesso mi ha concesso la conoscenza autentica delle cose, per comprendere la struttura del mondo e la forza dei suoi elementi, il principio, la fine e il mezzo dei tempi, l'alternarsi dei solstizi e il susseguirsi delle stagioni, i cicli dell'anno e la posizione degli astri, la natura degli animali e l'istinto delle bestie selvatiche, la forza dei venti e i ragionamenti degli uomini, la varietà delle piante e le proprietà delle radici. Ho conosciuto tutte le cose nascoste e quelle manifeste, perché mi ha istruito la sapienza, artefice di tutte le cose. In lei si è uno spirito intelligente, santo, unico, molteplice, sottile, agile, penetrante, senza macchia, schietto, inoffensivo, amante del bene, pronto, libero, benefico, amico dell'uomo, stabile, sicuro, tranquillo, che può tutto e tutto controlla, che penetra attraverso tutti gli spiriti intelligenti, puri, anche i più sottili. La sapienza è più veloce di qualsiasi movimento, per la sua purezza si diffonde e penetra in ogni cosa. È fluvio della potenza di Dio, emanazione genuina della gloria dell'Onnipotente. Per questo nulla di contaminato penetra in essa. È riflesso della luce perenne, uno specchio senza macchia dell'attività di Dio e immagine della sua bontà. Sebbene unica, può tutto. Pur rimanendo in se stessa, tutto rinnova e attraverso i secoli, passando nelle anime sante, prepara amici di Dio e profeti. Dio, infatti, non ama se non chi vive con la sapienza. Ella, in realtà, è più radiosa del sole e supera ogni costellazione. Paragonata alla luce, risulta più luminosa. A questa, infatti, succede la notte. Ma la malvagità non prevale sulla sapienza. La sapienza si estende vigorosa da un'estremità all'altra e governa a meraviglia l'universo. È lei, tuo amato e corteggiato fin dalla mia giovinezza. Ho bramato di farla mia sposa. Mi sono innamorato della sua bellezza. Ella manifesta la sua nobile origine vivendo in comunione con Dio, poiché il Signore dell'universo l'ha amata. Infatti, è iniziata la scienza di Dio e discerne le sue opere. Se la ricchezza è un bene desiderabile in vita, che cosa c'è di più ricco della sapienza che opera tutto? È la prudenza ad agire chi più di lei è artefice di quanto esiste. Se uno ama la giustizia, le virtù sono il frutto delle sue fatiche. Ella, infatti, insegna la temperanza e la prudenza, la giustizia e la fortezza, delle quali nulla è più utile agli uomini durante la vita. Se uno desidera anche un'esperienza molteplice, ella conosce le cose passate e intravede quelle future, conosce le sottigliezze dei discorsi e le soluzioni degli enigmi, comprende in anticipo segni e prodigi e anche le vicende dei tempi e delle epoche. Ho dunque deciso di dividere con lei la mia vita. Certo che mi sarebbe stata consigliera di buone azioni, ne conforto nelle preoccupazioni e nel dolore. Per lei avrò gloria tra le folle e, anche se giovane, onore presso gli anziani. Sarò trovato perspicace nel giudicare, sarò ammirato di fronte ai potenti. Se tacerò, resteranno in attesa. Se parlerò, mi presteranno attenzione e se mi dilungo nel parlare, si tapperanno la bocca. Grazie a lei avrò l'immortalità e lascerò un ricordo eterno a quelli che verranno dopo di me. Governerò popoli e nazioni mi saranno soggette. Sentendo parlare di me, crudeli tiranni si spaventeranno. Mi mostrerò buono con il popolo e coraggioso in guerra. Ritornato a casa, riposerò vicino a lei perché la sua compagnia non dà amarezza né dolore il vivere con lei, ma contentezza e gioia. Riflettendo su queste cose dentro di me e pensando in cuor mio che nella parentela con la sapienza c'è l'immortalità, che grande godimento vi è nella sua amicizia e nel lavoro delle sue mani sta una ricchezza inesauribile e nell'assidua compagnia di lei c'è la prudenza e fama nel conversare con lei, andavo cercando il modo di prenderla con me. Ero un ragazzo di nobile indole e ben sorte un'anima buona o piuttosto, essendo buono, ero entrato in un corpo senza macchia. Sapendo che non avrei ottenuto la sapienza in altro modo se Dio non me l'avesse concessa ed è già segno di saggezza sapere da chi viene tale dono, mi rivolse il Signore e lo pregai dicendo con tutto il mio cuore Dio dei Padri e Signore della Misericordia che tutto hai creato con la tua parola e con la tua sapienza hai formato l'uomo perché dominasse sulle creature che tu hai fatto che governasse il mondo con santità e giustizia ed esercitasse il giudizio con animo retto dammi la sapienza che siede accanto a te in trono e non mi escludere dal numero dei tuoi figli perché io sono tuo schiavo e figlio della tua schiava uomo debole e dalla vita breve incapace di comprendere la giustizia e le leggi. Se qualcuno fra gli uomini fosse perfetto privo della sapienza che viene da te sarebbe stimato un nulla. Tu mi hai prescelto come re del tuo popolo e giudice dei tuoi figli e delle tue figlie. Mi hai detto di costruirti un tempio nel tuo santo monte un altare nella città della tua dimora immagine della tenda santa che ti eri preparata fin da principio. Con te e la sapienza che conosce le tue opere che era presente quando creavi il mondo. Lei sa quel che piace ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti. Inviala dai cieli santi mandala al tuo trono glorioso perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica e io sappia ciò che ti è gradito. Ella infatti tutto conosce e tutto comprende e guiderà con prudenza nelle mie azioni e mi proteggerà con la sua gloria. Così le mie opere ti saranno gradite. Io giudicherò con giustizia al tuo popolo e sarò degno del trono di mio padre. Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare cosa vuole il Signore? I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni perché un corpo corruttibile pesantisce l'anima e la tenda d'argilla opprime una mente piena di preoccupazioni. A stento immaginiamo le cose della terra. Copriamo con fatica quelle a portata di mano. Ma chi ha investigato le cose del cielo? Chi avrebbe conosciuto il tuo volere se tu non gli avessi dato la sapienza e dall'alto non gli avessi inviato il tuo santo spirito? Così vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra. I uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito e furono salvati per mezzo della sapienza. un po'